e vince ovviamente con grandissimo merito, il Lecce disarmante per la lucidità tattica e la grandissima facilità con la quale ha portato i suoi uomini al tiro. Il Messina troppo brutto, timoroso e distratto soprattutto in difesa per essere quello vero, poi il gol subito in apertura ha complicato un pochino tutte le cose. Ma andiamo a vedere il racconto della partita. Alla fischio del signor Farina il Messina tenta subito di prendere il gioco in mano ma la doccia gelata arriva praticamente subito. C'è un'azione pregevole di Cassetti sulla destra che da più di 20 metri tira forte e preciso, respinge Storari ma Vucinic brucia tutti e insacca e il quinto Messina 0, Lecce 1. I giallorossi di casa non ci stanno e comincia un assalto furioso e di conseguenza a volte poco lucido alla porta di Sicignano. Di Napoli carica il suo sinistro su punizione ma non c'è niente da fare. Anzi, alla 38esimo il Lecce rompe l'assedio. C'è un imbalzo che inganna tutti ma non Babu che appoggia Bielanovic pronto al tiro. Palla in rete e raddoppio del Lecce. Ma il Messina non ammolla. Donati in slalom a Sullo, tiro al volo, Sicignano si annoda un po', perde la palla e di Napoli mette dentro. È il 42esimo, Messina 1, Lecce 2. Ma se andiamo a rivedere c'è Sullo in fuorigioco. Vedete anche la riga dell'area di rigore è in fuorigioco. Il tempo di un sospiro ed il Lecce conquista. Un angolo batte Babu, testa di Bielanovic a fil di palo, balzo di Storari che arrabbranca la palla troppo tardi. È il 43esimo, Messina 1, Lecce 3. E con Storari incredulo e stordito passiamo alla ripresa. In pratica il Messina rimane negli sfogliatoi ed è un monologo quello del Lecce. Tra grandi interventi dello stesso Storari, un gol annullato e una traversa di Eremenco. Fino ad arrivare quasi al termine. C'è un cross di Babu dalla fascia e sinistro al volo di Dallabona, precisissimo e palla in rete. Siamo al 43esimo ed è il risultato finale. A Messina, Lecce batte Messina 4 a 1. Lì nello studio.